Emanezza, manezza, 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 manezza... Siamo arrivati a tutti, siamo arrivati a tutti. Io vorrei fare solo un inconstruzamento alla comunità europea e all'azione della Santa. E' un nome proprio della società della Santa Maria. Ringraziamo tutte le autorità. Il nostro barco di sforzo è deducito da lì che con il loro contributo permetteranno ogni anno di fare questa bellissima festa. Grazie di tutto, è un'altra saluta per la benedizione della nostra parte. Bravo! È l'elemento della prima volta che mi partecipo a Pazzesca del 2018 e vediamo poi il qualsiasi mando che c'è per dire ma sono sicuro di andare a giocare perché siete un buon valore quindi faccio sempre l'attenzione già più santi e più santi con un buon valore che vanno buonissimo. Come benedizione facciamo semplicemente un'allenonia perché di tutta questa gioia e tutta questa crescita da cui abbiamo giocato sempre ha come significato l'ultimo la nostra deduzione la nostra fede e la nostra mania santissima assoluta. Anche io ringrazio tutti i colori per la mia situazione e i gruppi che hanno permesso non solo di vivere la nostra festa in chiesa da un punto di vista equestrali ma anche poca gioia per stare insieme. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei netta per le donne e netta per il frutto del tuo Santo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Viva la Lidia!